Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso. La scorsa settimana avevamo dedicato la puntata a un nostro patrimonio, la cultura walser che aspira ad essere riconosciuto dall'UNESCO anche come patrimonio dell'umanità. Questa settimana parliamo di un nostro tesoro di arte e di fede che invece l'UNESCO ha già riconosciuto come patrimonio dell'umanità. In realtà quelli riconosciuti all'interno di questo sito dell'UNESCO sono nove sacrimonti, due nella vicina Lombardia, Ossuccio e Varese, sette in Piemonte e ben quattro nella diocesi di Novara. Li ricordo, Domodossola, Ghiffa, Orta e Varallo. In più si aggiungono quelli di Belmonte, Crea e Europa. Dal 2012 la cura, la gestione di questo straordinario patrimonio è affidato all'ente di gestione dei sacrimonti siti UNESCO del Piemonte. Del Consiglio dell'ente fanno parte un rappresentante religioso e un rappresentante laico di ciascuno di questi sette sacrimonti e il Consiglio è presieduto invece da un presidente, in questo caso da una presidentessa, nominata direttamente dalla presidente della giunta regionale. E questa sera con noi abbiamo appunto la presidente dell'ente di gestione dei sacrimonti, Renata Lodari, che ringrazio. È la seconda volta che viene a questa trasmissione. Volentieri, vengo volentieri, grazie. Grazie. Presidente Rodari, tra i compiti dell'ente di gestione c'è anzitutto la conservazione, il restauro, la manutenzione di questo straordinario patrimonio di arte e di fede. Vogliamo ricordare com'è composto questo tesoro? È davvero un patrimonio straordinario, ingente nella sua consistenza, nel numero di edifici religiosi e di sculture contenuti in questi edifici e ingente anche per la componente ambientale nella quale sono tutti immersi. I sacrimonti piemontesi, per parlare dei nostri sette sacrimonti, quelli che sono gestiti dall'ente che presiedo, sono complessivamente formati da 165 cappelle, diverse per chi ne ha di più, naturalmente, Varallo e il primo sacromonte, ma distribuite lungo un percorso devozionale. Non abbiamo ancora terminato il conteggio delle sculture all'interno, ma possiamo parlare di diverse migliaia di sculture a grandezza naturale, in terracotta dipinta e quindi con ingenti problemi anche di conservazione e di manutenzione. Va ricordato che le cappelle appunto sono immerse in boschi, parchi e giardini e sono semi aperte, cioè è come se fossero tanti piccoli musei, visibili, visitabili, senza pagare un biglietto e semplicemente guardando il patrimonio artistico in essi contenuto attraverso delle grate. Questo fa sì che il patrimonio è sottoposto a un'usura e deve essere appunto conservato per le condizioni ambientali particolarmente difficili. Ecco, in questi anni quali sono stati gli interventi più significativi di conservazione, manutenzione, restauro operati soprattutto nei quattro sacrimonti che più sono vicini a noi, quindi Domodossola, Ghifa, Orte e Varallo? Sì, abbiamo lavorato appunto su tutti i sacrimonti a seconda delle emergenze e delle necessità, ma per rimanere a Domodossola, i sacrimonti che lei ha citato, che fanno parte della diocesi di Novara, a Domodossola in particolare, oltre ad aver lavorato sui tetti, ricordiamo che in tutti i sacrimonti la conservazione dei tetti è elemento prioritario per conservare bene il patrimonio contenuto nelle cappelle e abbiamo colto anche l'occasione ogni volta che si rifà un tetto, o che comunque si mette mano a un tetto, di installare delle linee vita, questo per la sicurezza, questo è fondamentale. Quindi anche questo è stato fatto a Domodossola, ma in particolare a Domodossola, con un ingente finanziamento ottenuto dalla Fondazione Comunitare del VCO, abbiamo potuto restaurare la cappella numero 5, quella del Cireneo, i lavori sono pressoché terminati, conclusi e si è rivelato un cantiere molto interessante anche dal punto di vista artistico. Con dei fondi ministeriali è stato prontato un progetto per restaurare interamente la cappella numero 2, quella alla base del percorso devozionale che oggi è confusa nell'immagine urbana, ma che fa parte, che verrà senz'altro ricomposta, ed è una bellissima cappella con delle sculture di bussola, quindi molto interessante. E direi che a Domodossola abbiamo lavorato con grande soddisfazione e con grande armonia, e mi piace qui ricordarlo, con l'amministrazione comunale di Domodossola, stabilendo un protocollo d'intesa che ci vede impegnati, noi ente, il comune, i padri rosminiani e anche la sovrintendenza, in un lavoro fatto insieme per recuperare appunto questa prima parte del percorso devozionale. A Orta, sempre per fondi ottenuti dalla fondazione comunitaria, in questo caso Nova Rese, abbiamo, e stanno terminando anche qui i lavori, restaurato interamente la cappella numero 1, quella emblematica del comune di Orta, che è dedicata alla nascita di San Francesco. Poi sono stati fatti, sono iniziati dei lavori con finanziamenti ottenuti, finanziamenti europei, finanziamenti interreg, ottenuti per quei sacremonti che confinano con la Svizzera, e quindi Ghifa, Varallo e Orta sono fra questi, insieme a Domodossola. Questi fondi ci hanno permesso di intervenire anche a Varallo, su diversi cantieri, laddove si è rivelato come esemplare il lavoro fatto in questi anni, la metodologia di restauro di questi edifici, e la Svizzera, che in questo caso è uno dei nostri partner nel progetto Interreg, ha aderito all'iniziativa, il finanziamento è stato ottenuto e si è ritenuto di dover considerare come patrimonio comune proprio anche questo sapere, questa capacità di fare, queste tecniche dell'intervento. Non è banale intervenire su dei tetti e su delle munature che hanno diversi secoli e che fanno parte anche di una cultura, di una tradizione di lavoro locale. E questo vale per Orta, per Varallo e per Ghifa, dove si restaurerà interamente la Cappella di Abramo e dove è stato prontato anche il progetto per restaurare la Via Crucis, quella sotto il porticato, quella bellissima Via Crucis. Quindi sono stati fatti molti lavori utilizzando in parte delle risorse che l'attuale Consiglio, che è giunto alla fine del suo mandato, ma che ha trovato nei bilanci, ma soprattutto facendo un lavoro enorme, ingente, di recupero di fondi. Ecco, avete fatto un censimento, una ricognizione, c'è una fotografia dello stato di salute? Sì, è proprio questa che forse è la cosa che per prima abbiamo fatto come Consiglio. Ed è stata questa che sul piano scientifico e sul piano tecnico c'è stata riconosciuta come una novità e come per le modalità con cui è stata fatta, adesso non mi dilungo nella spiegazione, ma questo censimento dello stato di conservazione del patrimonio banalmente non era mai stato fatto prima. E quindi quando le singole riserve erano gestite singolarmente da dei singoli consigli non si aveva una conoscenza completa dello stato di conservazione del patrimonio. E qui va ricordato una volta ancora che il patrimonio deve essere considerato nella sua interezza e totalità perché è uno il sito UNESCO, benché seriale è uno. Quindi avere operato una sorta di censimento dello stato di fatto, questo sia per quanto riguarda il patrimonio architettonico e artistico e sia per quanto riguarda la conservazione per grandi esemplari, per esempio, del patrimonio botanico e erboreo, ci ha permesso di redigere quindi un cronoprogramma approvato dal Consiglio che dà appunto il tempo e il ritmo nel nostro lavoro a mano a mano che si recuperano risorse. Quindi voi avete una fotografia di ogni cappella, della sua situazione? Dello stato di risalita dell'umidità, per esempio, dal terreno, della stato di conservazione dei tetti, sono stati posti laddove è necessario delle monitoraggi di eventuali lesioni strutturali. E questo è, sembra strano doverlo dire, fatto adesso, ma adesso finalmente c'è questa conoscenza del patrimonio e quindi a mano a mano che si recuperano risorse c'è anche una logica nell'intervento che deriva dal dare naturalmente la precedenza alle emergenze. Ecco, lei ha già citato più volte che di questo patrimonio fa parte anche il paesaggio, fa parte anche la ricchezza forestale di queste. Ecco, da questo punto di vista credo che però non sia facile gestire un patrimonio di questo genere. No, non lo è per niente perché intanto va ricordato che il sito UNESCO, il riconoscimento non è un vincolo, è un riconoscimento di un valore universale di questi luoghi che riconosce come valore universale quindi di tutti, dell'umanità, sia dell'elemento architettonico e artistico, sia dell'elemento ambientale e sia anche di quel valore cosiddetto immateriale che è derivato dalla fede, dalla nostra storia cristiana, eccetera. Quindi tutte queste tre grandi componenti che formano i Sacrimonti devono essere considerate. È molto più difficile però recuperare dei finanziamenti perché non esistono bandi, non abbiamo trovato in questi quattro anni quasi di lavoro, dei bandi essenzialmente centrati su questo tema e quindi abbiamo dovuto fare tesoro delle poche risorse che avevamo e però va detto che è importantissimo mantenere la componente vegetale. Intanto si può paragonare a dei giardini, a un giardino storico, la componente vegetale che accompagna e che permette, che descrive bene i siti e quindi come tale con determinate condizioni deve essere affrontato il suo restauro. È difficile appunto recuperare del patrimonio ma è anche vero che è un patrimonio che si deteriora prima di un patrimonio architettonico perché un albero ha una sua durata di vita e quindi ci sono stati poi degli eventi anche catastrofici. Quest'estate c'è stato un ubifragio e un uragano a Giffa dove abbiamo avuto dei danni enormi e anche a Orta, ultimamente con le alluvioni nell'Alessandrino anche Crea ci sono smottamenti. Quindi è veramente un patrimonio ingente e che richiede delle risorse altrettanto ingenti per farvi fronte. Ecco, un altro dei compiti dell'ente di gestione è la promozione dei Sacrimonti, tesoro che andrebbe forse più conosciuto e più apprezzato. Che cosa avete fatto a questo riguardo? Diciamo che con poche risorse, forse le sole risorse senza forse che ci sono state date direttamente dalla Regione Piemonte all'inizio del nostro mandato, proprio con l'indicazione di utilizzarle per far conoscere il patrimonio perché anche qui sembrerebbe paradossale un patrimonio che è dell'umanità. Io per esempio, ma anche i consiglieri con me hanno constatato che non sempre è così conosciuto, per prime talvolta nemmeno dalle popolazioni locali che dovrebbero averlo sotto gli occhi da sempre. Quindi qui abbiamo lavorato molto per la promozione e direi che forse qui abbiamo ottenuto dei risultati. Io credo importanti perché molte sono state le pubblicazioni, le riviste, i giornali, le quotidiane che hanno parlato di noi, avendo fatto noi degli educational tour per dei giornalisti. Ci abbiamo ospitato dei giornalisti di testate prestigiose e li abbiamo condotti sui luoghi e come conseguenza abbiamo avuto un ritorno anche di immagine e di conoscenza. Con la legge 77, che è la legge che assegna dei finanziamenti ministeriali, quindi non solo destinati ai sette sacrimonti piemontesi, ma anche ai due sacrimonti lombardi, abbiamo ottenuto delle risorse per rifare il nostro sito internet, un sito internet che quindi a breve sarà disponibile e che quindi parlerà di noi e abbiamo ripubblicato in diverse lingue straniere, fra cui anche il cinese, dei singoli sacrimonti e uno complessivo che li descrive. Forse il risultato maggiore che abbiamo ottenuto, lavorando direttamente e ottenendo un piccolo finanziamento, partecipando a un bando, è stato quello di realizzare dei documentari che sono da poco andati in onda ma che verranno ripresi da TV 2000, la TV della CEI che ha una grande visibilità e che appunto per ogni sito ha fatto nove documentari, quindi per ogni sacromonte, e dove quegli aspetti che ho tentato di dire, che ho raccontato prima, cioè l'aspetto architettonico e artistico, ambientale e devozionale di fede, sono stati in particolar modo messi in evidenza. Poi vedo, Presidente, che lei ha lì l'ultima pubblicazione, credo, no? Sì, è l'ultima pubblicazione e ci siamo resi conto che nonostante avessimo molto materiale fotografico presso il nostro centro di documentazione, questo materiale era frammentario e molto diversificato anche in termini di qualità da un sacromonte all'altro. Quindi abbiamo commissionato, sembra in lampido di questo nostro programma di valorizzazione, una campagna fotografica fatta da un famoso fotografo e una casa editrice che è Silvana Editoriale ci ha pubblicato da poco questo libro che è essenzialmente fotografico, fotografie molto belle e trattandoli su tutti i nuovi sacrimonti naturalmente. In copertina vedo che c'è il sacromonte di Domodossola, di Carvalho. Questa è la scelta della copertina come in tutte le... Perché sono illuminate bene le cappelle, le suggestive. Sì, e perché il fotografo Pecos ha particolarmente curato, è un fotografo particolarmente interessato alla luce e quindi lui dal mattino alla sera ha fatto delle riprese e quindi il libro è interessante anche in questo modo e è un po' il nostro biglietto da visita. Che tra l'altro diciamo avrà una presentazione di eccezionale importanza il 23 di gennaio. Sì, intanto la prefazione del libro è di Antonio Paolucci, quindi un nome di grandissimo prestito. Ex direttore dei musei vaticani. Il prossimo 23 gennaio sarà presentato in Vaticano. Presso l'ambasciata italiana in Vaticano. L'ambasciata italiana alla Santa Sede, certo. E ci saranno due storici dell'arte, del livello di Strinati e di Settis che ce lo presentano, ma particolarmente... Anche il cardinale Gianfranco Ravasi. Gianfranco Ravasi. Quindi sarà un momento, tra l'altro noi facciamo degli education e possiamo evitare dei giornalisti, una presentazione di questo tipo, in quella sede, pare che siano presenti qualche centinaio di giornalisti. Quindi noi ci aspettiamo un ritorno di pubblicità notevole. E quindi anche un po' di paura per dover presentare i siti in buone condizioni, nonostante la scarsità delle risorse. Delle risorse, benissimo. E abbiamo più volte ripetuto che i Sacri Monti sono un tesoro di arte, ma anche di fede. Ecco, da questo punto di vista, dall'osservatorio che voi avete come ente di gestione, qual è la valorizzazione sotto profilo spirituale dei Sacri Monti? C'è qualche Sacri Monti particolarmente dinamico, qualcuno che ha qualche difficoltà in più? Dal punto di vista della sua utilizzazione spirituale. Sì, va ricordato che il compito del Consiglio è anche quello di tutelare e di rispettare, di promuovere proprio quei valori cosiddetti materiali che sono derivati dalle tradizioni, dal culto, dalla devoluzione popolare e dall'espressione della religiosità. Senza quello i Sacri Monti non avrebbero significato. Quindi è importante che presso ogni Sacri Monti rimanga una comunità religiosa a viverci. e finora è così. Ogni Sacri Monti, i rettori dei santuari atuano delle loro naturalmente attività che sono legate a dei momenti liturgici particolari, quindi questo c'è sempre. Ma noi in particolar modo ci siamo posti questa domanda. E' vero che i Sacri Monti nascono, hanno più di 500 anni, non se partiamo da Varallo, e da 500 anni parlano della nostra tradizione cristiana e raccontano anche come un enorme catechismo, no? Certo, popolare. Popolare offerto ai fedeli. Ma ci siamo domandati se non ci sia modo oggi di rendere attuale con le problematiche che l'uomo di oggi si trova a dover affrontare diverse da quelle dell'uomo di tanti anni fa. E se il contenuto artistico di queste cappelle ancora non possa parlare efficacemente proprio in questa direzione. E la risposta è naturalmente positiva. Abbiamo organizzato diverse attività, quasi sempre per fare in modo che anche le giovani generazioni si avvicinano ai Sacri Monti, quindi sul tema musicale, concerti nelle chiese, concerti nelle cappelle. Ma in particolare due convegni che ci hanno visti impegnati, sono stati fatti a Orta. Uno sul tema interreligioso, cioè partendo dal contenuto della cappella San Francesco che incontra il sultano, cosa vuol dire oggi parlare di religioni? In un momento complicato della nostra storia. E poco il mese scorso, cioè a ottobre, a Orta abbiamo tenuto un magnifico convegno e speriamo di avere le risorse per stampare gli atti, dove abbiamo messo a confronto fra le principali religioni il tema del pellegrinaggio. E ci tenevamo molto perché noi abbiamo in questi anni anche messo a punto il devoto cammino dei Sacrimonti, questo 750 chilometri di percorso che uniscono tutti i nove Sacrimonti e quindi volevamo capire cosa vuole dire nelle diverse religioni camminare per andare verso un luogo santo e cosa significa, che cosa si incontra, eccetera. Ed è stato veramente molto interessante. Tra l'altro lei ha ricordato a Orta la bella notizia che da qualche tempo a Orta finalmente tornano proprio a Sacrimonte i Francescani. Sì, sono tornato in una piccola comunità importantissima, infatti uno di questi frati francescani è stato un nostro relatore brillantissimo su questi temi francescani e questo è molto importante, è molto importante, sì. Ecco, per fare tutte le cose che lei ha ricordato ovviamente occorrono delle risorse umane e finanziarie. Da questo punto di vista come è messo l'ente? Ma diciamo che non è messo benissimo però abbiamo lavorato con tutto il Consiglio per ovviare a questo problema. Ci siamo proprio trovati di fronte alla mancanza assoluta di finanziamenti e abbiamo lavorato molto per recuperarli. E poiché i luoghi sono di una bellezza incredibile e di un valore, come abbiamo detto, universale in quasi nessuna dei nostri tentativi di raccolta fondi ci è stato detto di no. Cioè quindi noi abbiamo recuperato un'ingente somma partecipando a tutti i bandi possibili e immaginabili che avessero per tema un progetto che noi potevamo sostenere. Quindi li abbiamo trovati ma naturalmente è come per tamponare delle emergenze, delle risorse rispetto a quel cronoprogramma come dicevo che il Consiglio ha approvato. Dunque lasciamo una buona traccia ma naturalmente io credo che debba essere approntato un piano più generale e che non renda così vago o comunque incerta la risorsa economica. Abbiamo lavorato anche sulle risorse umane nel senso che ci siamo trovati con un organico di personale molto ridotto rispetto a quanto prima sommassero i sette parchi abbiamo approvato una pianta organica e poi con la legge Madia un fabbisogno triennale e abbiamo assunto del personale e stiamo assumendo dell'altro personale. Certo non sufficiente bisogna anche dire che il fatto di avere sette sedi perché la sede legale dell'ente è a Crea ma le persone lavorano nelle sette sedi e questo non rende molto semplice è vero che oggi si lavora in maniera con i computer però rende tutto molto complicato e come ho detto prima la risorsa più complicata da recuperare è proprio quella per restaurare e mantenere il patrimonio vegetale dei giardini. Senta io nella presentazione ho detto che ogni Sacromonte è rappresentato nel Consiglio da due persone un laico e un religioso. In realtà Domodossola è rappresentato da tre persone perché c'è anche il rappresentante del Consorzio del pre-restauro dei cappelli che ruolo ha? Ha un ruolo consultivo ma molto importante perché nella fattispecie il consigliere presente è molto efficace ed è ascoltato all'interno del Consiglio e soprattutto è stato molto efficace perché nelle more di assunzione del personale di cui dicevamo il Consorzio il lente dei Sacrimonti è grato al Consorzio per il restauro delle cappelle del Sacromonte di Domodossola perché per alcuni mesi si è fatto carico direttamente di mantenere stipendiando e pagando una persona presso il Sacromonte di Domodossola che tenesse aperto la sede che facesse attività di accoglienza eccetera e quindi a nome del Consiglio intero va il mio grazie alla Presidente Signora Efficace Signora Vierana del Consorzio che ha consentito questo. Ecco, l'attuale ente di gestione è ormai prossimo alla scadenza perché si rinnova qualche mese dopo il rinnovo del Consiglio regionale ecco dovendo fare un bilancio di questi anni si risiene soddisfatta ed eventualmente di che cosa in particolare? Ma soddisfatta completamente no perché è chiaro che si può sempre fare meglio quello che mi è devo dire che ma anche confrontandomi con gli altri consiglieri io sono contenta di lasciare questo incarico adesso nel senso che un certo numero di anni di questo lavoro perché è un lavoro quasi di volontariato è stancante pur essendo molto interessante e molto ricco di suggestioni importanti però è giusto che termini se devo essere contenta di qualche risultato beh è intanto che si parla un po' più di Sacrimonti e poi perché il lavoro fatto è stato fatto insieme e questa è stata la cosa più bella che io ho potuto mettere da parte nel mio bagaglio professionale avere lavorato in grande armonia con il Consiglio e poi soprattutto di avere constatato come e questo non lo sapevo come esiste non lo sapevo fino a questo punto come esiste una grande risorsa che si chiama volontariato e che è stata strategica anche per ottenere dei risultati quest'ultimo che ho citato del Consorzio di Domodossola ma a Belmonte per esempio dopo i fatti disastrosi c'è stato un incendio terribile al mese di marzo e la popolazione si è stata attivata subito e c'è un volontariato enorme intorno a questo e a Crea addirittura un'associazione si è costituita e ci ha terminato proprio in questi giorni il restauro completo della Cappella del Paradiso che è quella bellissima Cappella che termina il percorso dei Vozionati e poi ce ne sono tantissime altre piccole o grandi risorse abbiamo attivato il 5 per 1000 eccetera per cui ci sono anche arrivate delle risorse gente che utilizzando l'istituto dell'Art Bonus ha pagato questa direi che lo metterei nel bagaglio delle cose positive io vedo le cose positive e speriamo che il prossimo consiglio possa proseguirle proseguirle e sicuramente ottenere più risultati di noi grazie termina qui questa puntata del Sasso nello Stagno dedicata ai Sacrimonti questo grande patrimonio di arte e di fere che abbiamo la fortuna di avere proprio qui direi tra virgolette in casa nostra che l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell'intera umanità ringrazio Renata Lodari presidente dell'ente di gestione dei Sacrimonti sito UNESCO del Piemonte per la sua cortesia e la ringrazio anche per il lavoro che ha svolto in questi anni come presidente è inutile che ci nascondiamo io faccio parte del consiglio quindi abbiamo lavorato insieme e devo dare atto alla presidente veramente di un grande entusiasmo di una grande passione un grazie a tutti voi che ci avete seguito l'appuntamento ormai è al prossimo anno quando riprenderemo dopo la parentesi delle feste natalizie di Capodanno il nostro appuntamento al Sasso nello Stagno quindi arrivederci e auguri grazie a tutti